Mario buongiorno, sentite tu mi fai una domanda, a sante salve stanno suando che pur non essendo residente, residente in che senso? che non sono andato a sante salve, sante Vettel, sante Rocca, sante Antone, stanno andato però che pur non essendo residente è molto famoso a sante salve, sono andato a sante sante nata, qui si è andato a Cilencio? a Cilencio? a cilencio, a Cilencio se ho fatto la salve di erano i paventi che avevano spesso a Cilencio e mi sono andato a sante nata e ora ne chiamiamo più gli annetti, quando qualcosa non va bene, un pochino sante nata, un pochino sante nata. E' privato quasi a decine, pur se stanno andando niente, non c'è niente, non c'è niente, però è come un'abitudine, come un'acchiappa, è un'acchiappa, c'è un'acchiappa, qualcosa che ne va buono, corto sanno andando niente, non è meglio di buono che l'ha mai scegato, corto sanno andando niente, quell'altro... Però io ho levato un'altra cosa, se stanno andando niente molte volte viene adoperato pure quando ci sta un'imprecazione contro cacchiato, non è, se stanno andando niente, per esempio, gli dice, tu puzza sbattolo muore di santa di niente? Tu puzza sbattolo muore di santa di niente? E' un'altra cosa, c'è questa cacca è piccata, che ha fatto il cuore di santa di niente? I mani non ha sentito, perché la muore di santa di niente sarebbe l'epilessia, però io gli auguro un'altra cosa, ti puzza sbattolo, ti puzza sbattolo, quindi il santa di niente è molto presente, e dopo quando uno si arraga, gli dice, io hai fatto acchiappare quello? Io l'hai fatto acchiappare molto santa di niente? Io l'hai fatto acchiappare molto santa di niente, per dire l'hai fatto nuove... Io l'hai fatto in cazzo, ma l'hai fatto... Gli hai fatto una parte, gli hai fatto acchiappare il mone... Il mone santa di niente l'hai fatto acchiappare... Grazie Mario, ciao!